Ninetta, giri a colui che vada, perché tu dà parlare da solo a sola. Dov'è la convenienza? Andate via, che ho un nozzo che da dire. La mia sorella porta rispetto ad esso, che ha in la sua stanza, ma noi vi insegneremo la crianza. Ma l'avete ricato? E non importa. E se ne bastonassi? E prenderemo le bastonate ancora per quella che mi adora. E premia adesso quel biglietto, che sai? L'ho preparato e quasi c'è stato, di tenerezza in pieda. E basta ritrovarti all'elodia, perché io non sarei buono. Elio d'oro in persona. Oh, bravo bambino, la buona e la faccio. Ma la migliore poi, far tutti la sua cosa, i fatti suoi.